Avete presente il detto uno di tutto non fa male a nessuno? Beh, questo sarà il motto di oggi Infatti ci andremo a spacchettare tutti i bauli di questo gioco Ok, sono sincero, tranne uno, ma è davvero insignificante Così insignificante che manco ve lo ricorderete Non ho capito bene Mushix, cos'è che andremo a fare oggi? E spacchettare tutti i bauli di questo gioco di Clash Royale ovviamente Oh mamma mia, oh mamma mia, oh Magamendo, oh Magamendo Ra, quanta spacchetta oggi Siamo sul profilo di Fiore04 E anche proprio uno gnacchino che sta nel clan degli gnacchini Che ci ha preparato questo chest opening Che solo oggi può essere aperto in questa maniera Perché ragazzi abbiamo baule clan 10 su 10, bauli omaggio, volo da corona Gigante, epico, magico, super magico e anche il baule leggendario E anche una sfida da evento che ovviamente non può mancare neppure quello Ed ecco perché uno di tutto non fa male a nessuno Perché apriremo uno di ogni baule Ed è proprio per questo infatti che l'hashtag di oggi sarà Hashtag tutti E sì ragazzi perché tutti i bauli perlomeno più importanti li andremo ad aprire E ovviamente per essere estratti e salutati Oltre che lasciare quell'hashtag dovete condividere questo video Perché ragazzi questo è un video che va condiviso anche a prescindere dal saluto E che non sarà il migliore per quanto riguarda i bauli Ma è sicuramente il più completo Quindi non aspettiamo un millesimo di secondo in più E iniziamo subito a spacchettare Subito con i bauli omaggio ovviamente Si parte dal basso fino ad arrivare ai bauli quelli più forti e più potenti 94 di oro Una capanna barbari E infine 11 tesla Iniziamo un po' maluccio Ma noi non ci diamo mai per 20 ragazzi Vi ricordo comunque sia Che il giorno venerdì Sabato e domenica Sarò al Games Week Di conseguenza non mancate Ah si ragazzi per le magliette dovete rivolgervi direttamente a me Quando mi incontrate per la fiera Ok subito l'altro baule omaggio Di questo baule ovviamente abbiamo il doppione La replica Il duplicato Ne abbiamo ben due 90 di oro Uno stregone 11 Niente Niente Vabbè ma Ovviamente su questo c'è stupido Non si basa Proprio totalmente sul baule omaggio Infatti abbiamo un sacco di bauli Molto Molto migliori rispetto a quello Ah raga Ben inteso Non c'è il baule Quello d'oro E non c'è il baule Quello silver Ma perché fanno letteralmente cacare Cioè Molto meglio questi No Moshix Quelli sono quelli che Mi piacciono di più Perché non trovi un cavolo dentro Ebbè c'è anche il video in cui trovo Il leggendario del baule d'oro Ebbè il leggendario del baule silver Quindi Non è proprio così E si me lo ricordo Quel giorno Il mio cuore si è diviso in 8 piccoli pizzettini Prima che me ne dimentichi però Devo salutare alcuni amici Dine del nostro carro fiore Che mi ha prestato appunto il suo profilo Ricordatevi Ciao Tito Ciao Lollo E ciao Ghezzi Procediamo quindi Con il baule della corona C'è già una bellissima E fortissima botta Perché ragazzi Già questo baule Pesa Pesa davvero tanto Quindi 605 di oro Due gemme Due gemme ragazzi Va bene 13 pipistrelli Allora se escono tutte quante Le comuni Attenzione La rara E quindi questa è epica Nel baule della corona Subito così Arrazzo ragazzi La prima epica Di questo chest opening Dai raga Sondate Questo video Di like Voglio Almeno che I 1500 Like Per un prossimo Chest opening Su Clash Royale Ok Il prossimo baule Sarà questo qui Della sfida Macchina volante Che ormai non esiste più Ma se l'è conservato Solamente per Per me Per farmi spacchettare E quindi 700 di oro Va bene 4 sgherettine Ovviamente questo fa abbastanza schifo Niente Infatti una sfera infuocata In effetti questo Non ci ho pensato Faceva più schifo Rispetto al baule Quello della corona Ma noi non ci soffermiamo Su queste cagate E andiamo avanti A questo punto Direi di aprirci subito Il baule epico Ragazzi Sapete tutti il perché Perché il baule epico Non ha possibilità Di trovare una leggendaria Quindi andiamo subito A vedere Tre veleno Che nell'utilizzo Sto opening la sto trovando Di continuo Infatti è un po' strana Sta faccenda Prima erano le fulmini Adesso sono le veleno 5 scrittoni giganti E 5 più 3 fa 8 Quindi ci sono ancora Altre 12 Se non erro Epiche da trovare Quindi Altre 5 Quindi 12 più 5 Fa 17 No sto scherzando Perché 8 più 5 Quindi ok Quindi siamo ancora a 13 Ci sono 7 Epiche Tutte quante Di botto Che sono Ragazzi Che sono 7 tornadi Va bene Va bene Cioè secondo me Alzarsi a tornado Non ha troppissimo senso Ma Non so nessuno Io ho una carta Troppo utile Tornado Anzi quasi OP Azzirla tutta Quindi vabbè Se se la vuole upare Se la upa Siamo nuovamente Siamo nuovamente Tornati Al punto in cui Io spero Di trovare La fottutissima Leggendaria Nel baule gigante Raga Ve lo dico Se trovo La leggendaria Il baule gigante In questo baule gigante Mi ficco Di quel cavolo Di armadio E faccio Delle flessioni A testa in giù Porca miseria E ho fatto Ieri palenza Quindi sto Già distrutto Ma devo Trovare Prima o poi Nella mia vita La leggendaria Il baule gigante E che sia questo Il momento giusto No Musix Non sarà mai Il momento giusto Per farti trovare La leggendaria Vabbè Fosse per te Io resterei ancora Con i comuni Ma ancora Repi Che solo comuni Mi faresti trovare E pura utopia Questa che mi proponi Attenzione Perché abbiamo Comunque quattro scelte E abbiamo subito Cinque lapidi Che porca miseria Non mi faranno mai Vedere la leggendaria In questo baule 63 ore De risgherri E mi sa Che ce dobbiamo passare Le flessioni A testa in giù Ok 150 spiriti Del ghiaccio E ora Le rare Quali rare usciranno Spero cosa di utile Non come le ultime Cagate 48 cure Bene Ma non benissimo Mi sa Cioè ragazzi Ora voglio solo Farvi capire Che cavolo Di rush Di bauli Stiamo per andare Ad affrontare Cioè Bauli del clan 10 su 10 Magico Super magico E leggendario Cioè io Alzo le mani E lascio like Se vedo un video Del genere Ma che like Condivido proprio Ragazzi È assurdo Andiamo subito Con il bauli Del clan Dai 1620 di oro Un moschettile Quello piccino Picciottino Che guarda Lui guarda Guarda lontano Perché lui guarda Già la leggendaria finale 3 capanne 3 capanne goblin Dai Ma Io il bauli del clan Non lo odio ogni volta Perché stanno un sacco di carte Quindi tu speri sempre Ma sono sempre poche E poi tutto quanto alla fine 14 rare Attenzione Se escono tutte quante le comuni 101 Ragazzi È come una carica La carica del 101 Ma Non ci carica La leggendaria finale Infatti Sono anche Li mortali Mortacci 2 E infine L'epica 3 congelamento Che almeno abbiamo sbloccato La situazione Perché non sono più Le solite veleno Ok ok Vediamo il deck Del nostro carissimo Del nostro carissimo Fior No ok Allora Se li trovassimo Un bel drag infernale Un mastino Potrebbe portarsi Rispettivamente Al 3 Tutti e 2 Vediamo se gli manca qualcosa Non lo so Niente niente Ha praticamente tutte quante Le carte che sono già uscite Quindi possiamo solo Sperare di farli Uppare ancora di più Il suo deck Iniziando dal Baule magico Poi super magico Infine leggendario Cioè ragazzi Solo a pronunciarlo Mi viene voglia di condividere 1200 di euro Ok 3 arrieti da battaglia Va bene E 10 Sono già 13 rare Attenzione Ma mancano tipo Sicuramente Delle altre rare Una clonazione Una clonazione Una sola epica Però abbiamo ancora 4 carte ragazzi Un'altra epica E sono 2 Ma Una dolazione Una furia Ma porca miseria Mi piglia per il culo Attenzione Si escono tutte quante Eh no Perché Non sono uscite Prienti comuni Non sono uscite Due epiche Cioè il baule più strano Di clash royale In pratica Si ebbe 94 Spiti di ghiaccio Che possono solamente Fare i pomponi Avanti ai supermercati E infine Altre due epiche Cioè ragazzi Ma stiamo scherzando Cioè A volte ne escono due Qua ne sono uscite tre Bah Ragazzi Bah io davvero Non lo capisco Ragazzi Ho già aperto Il super magico Cioè lo sto aprendo Nel senso L'ho già cliccato Quindi Non aspettiamo altro tempo Subito 181 epistrelli Subito 28 domatori Subito 34 moschettini Dice po 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 Ragazzi Non si capisce più niente Altre 35 fornaci Da Ok Ok ragazzi No Ok la minchia Ok la minchia Non si trova La leggendaria Che va Un super magico Porca di una miseria Non ci credo Non ci credo Perché Sono usciti 130 Epistrelli All'inizio Ma ci sono ancora Tipo 400 comuni E solo le ultime due scelte Quindi non c'è la leggendaria Infatti 344 Gang di goblin E infine tipo 20 epiche Così di botto Ragazzi A questo punto Scrivetemi voi Quali epiche usciranno Non lo so Ok Con quali capelli Lo sto dicendo Forse erano addirittura Meglio prima In qualche video fa 22 cannoni a rotelle Cioè tipo Che non li utilizza nessuno Tanto lo so Che quando io dico Non li utilizza nessuno Dopo tipo Due settimane Li utilizzano tutti E' sempre così ragazzi Fidatevi Vi dirò Non mi è dispiaciuto Come baule Come carte Contenute Nonostante Non ci sia stata La leggendaria Perché comunque Erano uscite Carte abbastanza utili In generale Ed infine Ovviamente Come il botto finale O per far rosicare Err bimbo minchia Ovviamente c'è il baule Leggendario E' il baule Leggendario Ecco Musix Addirittura Tocanti Io invece Ho il panchias Sottosuna Perché Perché a forza Di vederti E rischi Di trovare Leggendarie Non lo so Mi è venuto Il batticuore La tachicardia E mi viene solo voglia Di piangere Ok E mentre i bimbo minchia Si rosola Nella sua stessa Cattiveria Io mi vado A aprire Il baule Leggendario Andiamo Musica Eccolo qui Il famigerato Boscaiolo Che non utilizza Mai Il nostro amico Ma è comunque Una leggendaria Di conseguenza Shooting Stars Musica 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 E questa è la fine Di questo video Ma vabbè A parte i riscarsi Sapete benissimo Che prima di finire Questo video Devo salutare Alcuni Tra quelli Che hanno scritto Correttamente All'hashtag E condiviso I video di ieri Di conseguenza Gli estratti Di conseguenza Ciao le amiche Kawaii Ciao i Umbers E infine L'ultimo estratto È Mister Esplorazione Di conseguenza Ciao mister Se questo video Vi è piaciuto Ci sono un bel like E vi è piaciuto Iscriviti E iscriviti Al canale Questa è tanto Ma tanto Oltre Del cuore Noi vi ci vediamo Magari In un prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.